Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato dalle stazioni della rete sismica nazionale alle ore 16.05 in Umbria. L'epicentro è stato localizzato nella provincia di Perugia, a 5 chilometri da Umbertide, con una profondità di circa 10 chilometri. L'area interessata dall'evento ha una sismicità frequente, secondo quanto emerge dalla mappa dal 1985 ad oggi, a cura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto è stato avvertito non solo nell'Umbria settentrionale, ma in tutto il Cuore Verde, oltre che nell'Alto Tevere, anche nelle città di Gubbio, Perugia, Spello, fino al Ternano, nonché nelle regioni limitrofe come Toscana, Marche e Lazio. Dopo la scossa maggiore sono stati registrati altri 11 eventi di bassa energia, tutti con magnitudo inferiore a 2. Tante telefonate, giunte ai vigili del foco, a cui sono arrivate in supporto anche le squadre provenienti dalle altre caserme, ha attivato anche un elicottero per solvolare le zone più vicine all'epicentro. Qualche piccolo distacco di intonaco è stato segnalato su alcuni edifici più datati e casi di inagibilità si sono verificati ai danni delle abitazioni di due famiglie di Umbertide di circa 10 persone. La circolazione dei treni è stata precauzionalmente sospesa sulla ex ferrovia centrale Umbra, tra Ponte Pattoli nella provincia di Perugia e Ranchi nel Tifernate, ciò per consentire ai tecnici di rete ferroviaria italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico. A Umbertide, con ordinanza del sindaco Luca Carizia, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine grado per la giornata di domani. Nel comune sono stati subito effettuati sopralluoghi nelle strutture scolastiche e nell'ospedale e non sarebbero emersi problemi significativi. Attivata subito anche la sala operativa della protezione civile regionale, che ha contattato i sindaci per conoscere la situazione dei territori interessati dal sisma ed è a disposizione per ricevere comunicazioni e richieste di informazioni.